Bentornati a S.S.A.Ghezzo TV, buonasera a Beppe Marconi Ciao, siamo tornati al Prato Siamo tornati al Prato, perché dopo che ce ne eravamo occupati un paio di volte adesso il Comune ha proceduto alla semina Sì, sicuramente sì, si ritornano il cappestare e poi pieno di colombe che mangiano quindi logicamente ci sono i semi Speriamo, no Dio, è questo il tempo della semina non so quanta che l'hanno fatto, perché ancora non vedo nascere niente sono intorno a quel lampione o qualcosina di erba, ma poca roba Tu sai da quanto c'è il cantiere qui? So che c'è stata una nota di qualche giorno fa del Comune che annunciava questo Non è tanto Non è tanto Era meglio se si è venuta fatta un po' prima, perché chiaramente l'erba è cantata prima perché poi se arrivano i 30 gradi, 35, come al solito, l'improvviso di giugno, dopo il prato soffre, se non c'è un'irrigazione e qui non la vedo l'irrigazione La vedi Fabio e te l'irrigazione? No, per ora no Non c'è irrigazione Per cui poi stenterà Era meglio aver fatto qualcosa prima Comunque lo sanno i giardinieri, questo non vorrei poi dire una bischerata io L'importante è che è stato fatto, vedo i viali, sono stati un po' ripristinati Vabbè, è stato fatto il minimo indispensabile, non è che è stato fatto grandi cose La statua di Petrarca è stata ripulita? Mi sembra di no, vedo delle scritte Mi sembra di no, vabbè È stato fatto, speriamo che lo facciano successivamente Ora, anche questo ha un costo sicuramente per la comodità Speriamo che rientri con quella tassa di soggiorno Così almeno anche questo, siccome fa parte poi delle spese della città di Natale Venga coperto con quelli di casserini Speriamo, sicuramente non è una grossa spesa Perché siamo a Il Prato e di Prato ce n'è poco adesso? Poco, veramente poco Però è sempre bello È sempre un posto bellissimo È sempre bello Sembra di essere in inverno D'altronde, qui io sono favorevole Un po' di sacrificio ci vuole Perché in effetti la città di Natale ha avuto un grosso riscontro Quindi gli spazi sono questi Poterla fare in città Perché se visto il primo anno quando viene fatto tutto in Piazza Grande Il pericolo che c'è stato dal maxi affollamento Che era veramente rischioso Niente, vabbè, ci sta Magari se si facesse un po' prima Ma secondo me sarebbe meglio Forse hanno detto, sai, quest'anno ancora è inverno Spero di molto, dai Fabio Come facevano a saperlo La risata è fantastica Secondo me quando ti chiedevano un prestito gli rispondevi così Io comunque magari gli dice mi dai 10.000 euro e te rispondevi? I soldi non si prestano Ma mai? Mai Perché ti fai dei nemici Sempre dei nemici Le grandi massime della vita Eh sì, non ti fai dei nemici Quindi è meglio tenere azione E' meglio aiutare la gente a trovare soluzioni A portarle dove viene fatto il credo Dove deve essere fatto Se la gente lo merita Altrimenti non fare i prestiti Perché primo perdi i soldi Secondo ti fai un nemico Perché ti fai un nemico? Perché non te li ridà Perché non te li ridà E ti fai un nemico Perché poi questo Si sente diritto Che siccome sei un amico Che non gli dovresti neanche richiedere Quindi lascia perdere Ti prende mica anche la banca Se è una persona che ha bisogno E' una persona seria Sicuramente trova che gli gli dà Ufficialmente dove deve darli Quelli che ti ritienano così Perché vuol dire che Guarda Hanno dei problemi Di altra natura I piccioli li vedo molto contenti Che stanno facendo merenda Speriamo che ce la mangino tutta Le seme Perché altrimenti Dopo l'erba non nasce Va bene Speriamo di rivedere il prato fiorito Quanto prima Come per l'estate Che prima o poi arriverà E le famose notti d'estate Ah A proposito di notti d'estate Hai letto Ho saputo Che ci sono dei lavori in corso E non so niente Dimbolo Ho saputo Che ci sono dei lavori in corso So solo questo So solo questo Che qualcosa si è mosso Sai che lì L'aria era abbandonata Che a un certo punto C'era stato anche un sequestro Non ricordi Che poi si era risolto Non ho saputo niente Che segnalavano su Facebook Che evidentemente C'è dei lavori Quindi evidentemente Qualcuno l'ha acquistata Probabilmente Quindi ci fa piacere Perché è un altro luogo simbolo Esatto Delle notti d'estate Esatto E anche quello Quindi al prato E spieghiamo che Chissà quando sarà pronto Però chissà anche quello Ritornerà un luogo per la città Beh Grazie Beppe A domani Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti